Mi piace ricordare un evento di carattere storico perché ovviamente se vuoi andare a vedere dove è attualmente collocata la bomba, l'aereo, effettivamente c'è solo Auletta. Di fatto ho scoperto che Auletta venne bombardata nel settembre 1943 nel corso dell'operazione Avalanche perché c'erano delle postazioni di artiglieria tedesca collocate proprio ad Auletta e in questo senso quindi Auletta venne bombardata dalle truppe alleate e infatti questa è una bomba d'aereo che è una NM64 da 500 libre, circa 224 kg con 127 kg di amatolo. Amatolo non è molto conosciuto ma se parliamo di TNT, quindi di tritolo, sono circa 160 kg di tritolo. Fondamentalmente è un bel po' di tritolo quindi gli effetti sono abbastanza dirompenti laddove vi fosse una esplosione. Diciamo che noi interveniamo all'interno di questa struttura di contenimento operando attraverso il despolettamento quindi verrà tolta la spoletta, una volta tolta la spoletta ci metteremo circa 4 ore, andremo poi in cava e ci metteremo un'ora nel trasporto dell'ordigno in cava e lì effettueremo il vero e proprio brillamento dell'intero ordigno. Quindi queste saranno le operazioni. Hai sottolineato la sinergia che sarà necessaria anche per un altro intervento, tra un mese c'è anche la bomba di Sapri. Sì, la bomba di Sapri noi la stiamo preparando. A Sapri abbiamo necessità, chiaramente ci stiamo già lavorando, di uno sgombero maggiore perché la bomba di Sapri è in una località più vicina al centro della città per cui lì ci sarà un lavoro più complesso da questo punto di vista. e poi ci sta anche la ferrovia che passa, quindi qua invece abbiamo soltanto alcuni servizi del gas e dell'elettricità ma che sempre con l'ottima collaborazione con i titolari delle strutture insomma siamo riusciti a realizzare questo lavoro in maniera molto positiva.